Bentornati a un nuovo appuntamento a Tu per Tu con Roberto Severini, consigliere comunale e capogruppo della lista civica Crescere Insieme. Buonasera. Al quale rivolgiamo subito una domanda su un argomento che riguarda un po' tutta Italia, che è il maltempo. I forti pioggi hanno flagellato non solo il litorale romano, ma anche l'Italia intera. Danni irreparabili, addirittura anche a Venezia. Situazione comunque non tanto diversa da quella vissuta qui a Fiumicino. Perché il nord ci sono state diverse segnalazioni e diversi problemi. Cos'è successo? Sì, diciamo che rispetto a Venezia noi siamo un fiore, quindi non neanche minimamente fare il paragone con Venezia. Però dobbiamo ragionare, anche se in piccolo, in grande. Il nostro nord del territorio è quello che ha subito più di tutti il problema delle alluvioni. Perché laddove c'è stata negli anni poca manutenzione, ne ha risentito ogni volta che ci sono queste bombe d'acqua. Un esempio su tutti, Castiglione, Taranova, l'abbiamo denunciato più volte. Ogni qualvolta lì piove arrivano fiumi di acqua e di fango causati da cosa? In parte dai terreni che sono incolti, quindi anche aziende agricole che sono sul posto, che non riescono a contenere o nessuno gli ha intimato di contenere le loro terre e le acque. Quindi riversano tutte sulla strada. Ci sono comprensori urbanistici che stanno costruendo, quindi quando c'è un movimento terra e piove, se non c'è un buon smaltimento delle acque, arrivano tutte a valle dove c'è Castiglione e la mattina si trovano con le sabbia mobili proprio. Per non parlare poi di Fregene. Fregene ha subito forti piogge, quindi via Agropoli specialmente è un acquitrigno. E quindi questo significa che laddove negli anni non si è intervenuti con una corretta manutenzione, anche straordinaria, questi problemi ce li riportiamo di anno in anno. Quindi quello che dobbiamo fare è intervenire. Un altro grande problema che ha Fregene è l'erosione. Sì, l'erosione non è da imputare all'amministrazione perché è sempre mal tempo. Forse c'è anche la regione di mezzo, anzi direi c'è la regione di mezzo. Però dobbiamo dire che laddove siamo intervenuti noi come consiglieri comunali di opposizione chiedendo anche un consiglio straordinario sul problema dell'erosione proprio perché sentivamo le lamentele degli stabilimenti in primis abbiamo ricevuto un tutto a posto, state tranquilli, il problema è risolto. Da quanto apprendo negli ultimi giorni il problema non è risolto. Gli interventi fatti dai privati sono ritornati da capo a piedi, quindi bisogna rientravenire. Speriamo seriamente questa volta. Restiamo nel nord del territorio per un altro problema, questa volta di natura più amministrativa. A Palidoro c'è un po' di confusione nell'ufficio comunale di Palidoro. Cosa sta succedendo? Ma sì, più che confusione è un problema che denuncio io e molta parte della cittadinanza. Da quando è stato chiuso l'ufficio comunale di Fregene, noi al nord abbiamo un solo ufficio che è quello di Palidoro. E poi c'è la sede centrale di Fiumicino. Un bacino di oltre 30.000 abitanti deve andare in uno stabile di 70-80 metri quadrati dove all'interno di un'unica stanza c'è sala d'attesa, archivio, scrivanie, privacy di ridotta allo zero e i servizi non sono minimamente riconducibili a quelli che si fanno a Fiumicino. bisogna vedere questa situazione. Se è un ufficio comunale deve avere gli stessi identici servizi di Fiumicino centro, altrimenti c'è un problema di decentramento amministrativo. Quindi dobbiamo fare in modo che una città come Fiumicino, con i lavori che si stanno facendo, gli interventi in grande che si pensa di fare, quindi una città che pensa in grande e che quindi pensa di diventare città, non può tralasciare le cose piccole che servono in grande per le grandi città come gli uffici e i servizi.